Ciao, noi siamo Riforma, Luca Berti al basso della voce, Simone Giulietti alla batteria e Luca Ranieri alla guitarra. Il brano è Cia Marissimo, la canzone parla di quelle persone che comunque lasci la pacca sulle spalle, a volte non riguarda qualcosa di buono, ma che comunque poi girano le spalle e ahimè parlano poco bene di te, quindi è questo quel senso della canzone. E se lei ho già vinto, sai, così. E siamo venuti a conoscenza di questo concorso tramite un amico, Michele Scufiotti, Vidi Grosseto, che ha chiamato a un messaggio e mi ha detto partecipa a questo premio, quindi ci siamo iscritti e eccoci qua. Grazie a tutti.